L'esigenza di costruire il secondo ponte sul Bormida ad Alessandria è condivisa un po' da tutti gli scherementi politici in città. Le divergenze sorgono invece quando si confrontano i diversi modi che si hanno in mente per realizzarlo e anche i tempi. Adesso c'è l'autorizzazione e forse anche i soldi, ma c'è un'esigenza, quella di evitare che si sfori con i tempi concessi e che quindi non intervengano vicende burocratiche che come sappiamo sono il pericolo numero uno per tutte le opere pubbliche. Per questo il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco ha chiesto un'attenzione particolare a tutti i parlamentari alessandrini eletti in Parlamento. Una risposta arrivata immediatamente dall'onorevole Riccardo Molinari, oltre ad appoggiare l'idea che si possa affidare la realizzazione del ponte ad un commissario straordinario creato ad hoc con poteri speciali che aiutino a superare eventuali ostacoli di carattere burocratico, pensa anche all'ipotesi di inserire il progetto nelle grandi opere. Perché, aggiunge Molinari, di certo le alluvioni sono un'urgenza e un pericolo per il territorio. Per questo credo la soluzione più semplice sia comunque quella di inserire quest'opera in quella in cui viene previsto la nomina del commissario. Le forze di opposizione locali però lanciano un allarme. Potrebbe rimanere un'incompiuta questo ponte perché mancano altri fondi, quelli per esempio per il collegamento alla freschetta. Michelangelo Serra, capogruppo Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale, dice chiediamo una commissione consigliare che ci spieghi qual è il nuovo tracciato e dove prenderanno gli altri fondi. Sappiamo che hanno già dato mandato da mesi per il nuovo progetto preliminare. Anche l'onorevole Alessandrino Federico Fornaro, capogruppo Leo alla Camera dei Deputati, ha dichiarato ci sarà una leale collaborazione istituzionale perché il secondo ponte sul Bormida è certamente una priorità. Prima di parlare di commissariamento, per velocizzare la realizzazione dell'opera, sarebbe necessario avere maggiori elementi sul finanziamento dell'intero progetto ed impegnarsi tutti con questo tema affinché non diventi una bandiera da usare in campagna elettorale.